I prigionieri farebbero le cose più folli per uscire di prigione e il nostro protagonista, Jacob, non fa eccezione. Sono stanchissimo. Dovrei scappare. E qui c'è la cella di Jacob. Ti ricordi tutto? Certo! Non sono mica stupida! Ecco, ho vinto! Perché una partner così? Parliamo ancora del nostro piano per liberare Jacob. Primo, mandiamo al nostro amico una divisa da inserviente con dei baffi finti. Ma mi stai ascoltando? Sì, sì, molto interessante. Cosa fare con la seratura della porta della cella? Non mi piacciono le nuove tecnologie. E ora la mossa numero due. Ci aiuterà la guardia stessa a scoprire il codice. Buon pomeriggio. Consegna ciambelle. Fantastico, grazie mille. Mmm, il miglior cibo del mondo. Con le solita sporche lascerà le impronte sul tasterino. E poi? Jacob userà le impronte per scoprire il codice e potrà scappare. Wow, che codice banale. Ha funzionato. Nella fase quattro passerà oltre la guardia inosservato. Quei panda sono così divertenti. Beh, e infine la mossa numero cinque. Jacob arriverà da noi. Forse l'oroggio è avanti. Ta-da! Ho fatto un errore nei miei calcoli? Ehi, inserviente, vieni qui. No, la guardia no. Guarda, pulisci la mia scrivania, per favore. Sì, non è un bel delire. Non pulirò questo schifo. Il piano è perfetto. Non capisco quali sia il problema. Ci serve un altro piano. Ai. Ehm, quando ci sarà un nuovo video di evasioni fallite su YouTube? Ciao, bello. Ce l'ho fatta. Jacob, sbrigati e alzati. Dobbiamo andare. Chi sei? Non mi riconosci. Sono io, Susan. Meno male che sei qui. Aspetta, non è tutto. Perché in realtà sono Leo. Anch'io ho una sorpresa per te. Non ti aspettavi di vedere Robert White, eh? Ci vedo doppio. Grazie, è un onore. Ci meritiamo decisamente il premio Guardia Gemelle dell'anno. Fermi, nessuno si muova. Ehi, perché ti nascondi sotto il letto? Stavo solo pranzando. 51? 52? Devo essere pronto per mezzanotte. Devo sbrigarmi. Cos'è tutto questo trambusto nella cella di Jacob? Se sta cercando di scappare passerà dei guai. Dove stai andando? Io ho solo deciso di spostarmi in un'altra parte della cella. È più accogliente, sai? Non capisco, ma va bene. Per un pelo. Wow! Qualcuno mi ha mandato un regalo. Chissà cos'è. Non posso credere ai miei baffi. È il film Prigionieri ricchi e poveri. È una vita che lo volevo vedere. È molto interessante. Presto sarà mezzanotte. Jacob è pronto per un'azione drastica. Questa graffetta mi aiuterà a uscire di qui. Ottimo. Quella guardia è così divertente, l'adoro. E cosa sta guardando il signor White? Ci sono un sacco di video divertenti come questo sul nostro canale, quindi iscriviti a Okitoki. Quindi, tutte le prove indicano che il colpevole sono io? Aspetta. Leo e Susan hanno un nuovo piano per liberare il loro amico Jacob. Ma nelle operazioni così importanti le cose non vanno sempre lisce. Andiamo. Oh, non devo svegliarlo. Ai, la mia gamba! Perché stai urlando? Dobbiamo solo svegliarlo. Ehi, alzati. La libertà non aspetta. Amici miei, sono così felice di vedervi. Dobbiamo solo capire come segare le sbarre. Hai qualcosa di appropriato? No. Tu, Susan? No. Perché? Dagli la tua limetta. Non ho bisogno di fare la manicure. Devi segare le sbarre, non le unghie. Genio. Dai, non fermarti. Cosa succede? Ehi, hai visto l'ora? È mattina presto. Sto cercando di dormire e mi state disturbando. Siamo spiacenti? Non lo faremo più. Cosa facciamo adesso? Ci ha chiesto di fare silenzio. Dovremmo escogitare un altro piano. Sono stanco. Scavare non è sicuramente una cosa divertente da fare. Un altro paio di giorni e finalmente andrò in vacanza. Beh, ma per ora mi godrò il mio panino, il caffè e l'onipotenza. Le mie cose preferite. Un bastoncino. Non credo di poterci scavare un tunnel. Ho un'idea. Devo stare molto attento. Ancora un po'. Maldive. Riposo. Sabbia bianca. Le guardie dovrebbero essere più vigili e non sporcare. Eccolo le chiavi per la libertà. La la la. È stato facile. Cosa? Il prigioniero sta cercando di scappare. Eccola, l'arma definitiva. Ah! Non di nuovo. Non è divertente. Torna in fretta al tuo posto. Non puoi allontanarti da me così facilmente. Aspetta! Ti prenderò. Non rilassarti. Basta! Due. Tre. Ho perso di nuovo. Mmm. Cos'è questo odore? Mmm. Una ciambella. Uh. È andata male. Ma posso ancora usarla. Quale modo migliore per attirare la guardia cattiva se non con una ciambella? Ora metteremo a prova la resistenza di Robert White. Mr. White, ho qualcosa per te. Cosa vuoi? Non osare distrarni. O stai combinando qualcosa? Eccolo, il potere dell'ipnosi della ciambella. Abbiamo ricontrollato lo schema, il piano di azione e il percorso dieci volte. Dovrebbe andare tutta alla perfezione questa volta. Faremo sicuramente uscire Jacob di prigione. Sì, sì. E ora il travestimento. Adoro il travestimento. Sono pronto. E tu? Ma aspetta, non vengo in missione conciata così. Quando sarei pronta? È passata mezz'ora. Dammi solo due minuti. Ci sono quasi. Ho finito. E adesso? Oh, finalmente. Adesso ci mettiamo le maschere. Le maschere? Fantastico! Le adoro! Oggi è il fatidico giorno. Che strano. Quella guardia di sicurezza baffuta non è al suo posto. La cosa importante è essere silenziosi come un ninja. Sono un ninja! Robert White è stato eliminato. Oh, e adesso? Svegliamo Jacob in fretta e usciamo di prigione. Ehi amico, svegliati! Ah, dove sono? Siete i miei salvatori. Grazie mille. Cosa farei senza di voi? Ditemi, hai visto qualcuno di questi prigionieri evasi? Naturalmente no. No, questa è la prima volta che vedo questa bella ragazza. Addio. Che mal di testa. Bene, vieni qui, Jacob. Ti aspetta un mondo di dolore. Andiamo al piano numero 125. I ragazzi hanno qualche nuova folla idea? Questa volta facciamo cosplay in versione elettricisti. Sì, andiamo. Adesso vorrei una bella tazza di caffè. Allora, dov'è la mia bevanda preferita? Stupida macchina del caffè, ti metto in galera. Puoi aiutarmi, per favore? Io distraggo la guardia e tu spegni l'allarme, seguendo il nostro piano. Ti sembro una che sa come si fa? Cosa devo fare? Oh, ci sono un sacco di cavi. Avrei dovuto giocare a The Among Us. Una nuova acconciatura in due secondi? Facilmente. Perché non funziona? Cosa c'è? Ah, non spaventarmi così! Ne ho abbastanza. Lasciamolo così. Sì, guardia, la macchinetta del caffè funziona. Ti eri solo dimenticato di accenderla. Oh, grazie mille. Avevo proprio sonno. L'importante è non svegliare la guardia. Oh no, guarda, sono spariti i denti della sega. Eh, mi piace il mio lavoro, mammo di più rilassarmi. Finalmente oggi è il giorno più atteso dell'anno, il giorno delle vacanze. Non hanno gli ardi senza di me mancanello. Ma vive, sto arrivando! Ah, i miei cari amici. L'adorabile Susan. E vabbè, Leo. Bene, mentre il signor White è in vacanza, posso finire il mio tunnel. Sono vicino la mia amata libertà. Non posso crederci, finalmente ce l'ho fatta! È bellissimo qui la spiaggia, le palme. Oh no! Ah, come mi sento bene! Jacob? Che ci fai qui? Torna in cella, subito! Ma cosa ho fatto di male per meritarmelo? Quale piano di fuga ti è sembrato il più divertente? Scrivi la tua risposta nei commenti sotto al video. Ti è piaciuto il nostro video? Premi like, iscriviti al nostro canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella. A presto! Ciao! Ciao! Ciao!